Il documento finale del Sinodo della Sinodalità ha deluso non pochi progressisti. Esso non tratta, infatti, di temi a loro cari, come l'inclusione degli omosessuali nella vita della Chiesa, l'ordenazione diaconale delle donne, eccetera. Per lo stesso motivo il documento finale ha rallegrato alcuni conservatori. Il pericolo, dicono, sembra essere scampato. In realtà, sia gli uni sia gli altri, secondo il filosofo Stefano Fontana, sono fuori fuoco, cioè non afferrano la situazione. Il documento finale ha avviato, o meglio, accelerato un funesto processo di trasbordo ideologico inavvertito. Di cosa si tratta? Cari amici, se siete sconvolti da tante cose che succedono nella nostra Chiesa, se la vostra fede ogni tanto forse vacilla in mezzo a tutto questo caos, allora questo canale è fatto per voi. Vogliamo non solo informarvi direttamente qui da Roma su cosa sta succedendo nella Chiesa, ma soprattutto aiutarvi a non perdere la fede ma anzi a irrobustirla. Vogliamo che, nonostante tutto, il vostro amore per Santa Romana Chiesa aumenti sempre di più. Buongiorno, mio nome è Giulio Loredo, benvenuti nel canale Visto da Roma. Se non sei ancora iscritto al canale, ti invito a farlo. Ti invito anche a darle un like e a condividere questo video con i tuoi amici. Resta aggiornato direttamente da Roma su cosa sta succedendo nella Chiesa. Fra un'analisi apparsa a proposito del documento finale del Sinodo della Sinodalità, mi sembra che il più reggevole sia quella dell'intellettuale cattolico Stefano Fontana sulla nuova bussola quotidiana. Il professor Fontana afferma che la creazione di una nuova mentalità nella Chiesa, attenzione, la formazione di una nuova mentalità nella Chiesa, in fondo di una nuova Chiesa, sia il vero scopo del processo sinodale, che, per volontà di Papa Francesco, ha catturato l'attenzione del mondo cattolico per più di tre anni e che non è ancora finito, come veremo. Questo è scopo, il creare una nuova mentalità, è prioritario rispetto a eventuali, pur relevanti, novità dottrinali o disciplinare, come quelle insistentemente richieste dagli arditi del neomodernismo. Anch'io ho notato che ci sono progressisti radicali scontenti. Loro spingono per un'agenda del tipo inclusione degli omosessuali nella vita della Chiesa, inclusione delle minoranze LGBT, ordinazione diaconale per adesso delle donne, poi magari anche quella sacerdotale, eccetera, eccetera. Essi dicono delusi dal documento finale del sinodo. Non si rendono conto la conquista principale per la loro causa, che non sta in queste mete, in questi temi, parziali e anche sì immediati, bensì nelle strategie a lungo termine. Non sembrano vedere l'importanza di consolidare nella Chiesa una nuova mentalità come risultato della conversione sinodale auspicata da Papa Francesco. Ecco il vero scopo di tutto questo. Riferendosi invece a quei riformisti più avveduti, più lungimiranti, che, a differenza dei progressisti radicali, oggi predilegono una procedura gradualista, Stefano Fontana scrive, e cito, fra virgolette, «Ciò che interessa ai fautori del nuovo non è tanto un sinodo che inizia e finisce subito, ma il processo della sinodalità che continua ben oltre questi appuntamenti. Il carattere interlocutorio del documento finale non è un male, ma un bene per chi fa da regia al processo sinodale. Coloro che si interessano molto dei documenti, compresso quest'ultimo, sono fuori fuoco. La sinodalità vuole una nuova Chiesa e questo processo della sinodalità non procederà solo con nuovi documenti, ma anche con atti concreti». Chiudo virgolette e dico perfetto. In altre parole, cari amici, «Invece di concentrarci tanto sui documenti che vengono e passano e sui quali possiamo discutere ad infinitum, dovremo vedere il processo di cambio di mentalità, la rivoluzione culturale in atto, o, come lo chiamava l'intellettuale cattolico Plinio Correa di Oliveira, «Il processo di trasbordo ideologico inavvertito», questo in un libro di 60 anni fa e che oggi assume una grande attualità. Purtroppo, anche nel versante anti-progressista, molti valorosi defensori dell'ortodossia cattolica non hanno neppure loro afferrato con chiarezza la portata di questa trasformazione, sentendosi rassicurati del fatto che, per ora, certi temi che loro temessero apparissero nel documento finale o non vi si trovano o vi sono accennati in termini, tutto sommato, non disruptivi. Qualcuno persino ha parlato di sollievo per la fine del processo sinodale come se fosse stata una grande perdita di tempo, tanta fatica per un risultato così deludente. Qualcuno ha addirittura usato l'espressione «la montagna ha partorito un topolino». Sarà davvero così? Io non credo. Anzi, mi sembra di poter affermare che mai, come ora, sembra verificarsi la sioma del celebre filosofo della comunicazione canadese Marshall McLuhan. Lui diceva «il mezzo è il messaggio». Il mezzo è il messaggio. Applicato al processo sinodale, noi potremmo dire «il processo sinodale è il messaggio». McLuhan intendeva per mezzo quegli stili, ritmi di comunicazione e soprattutto quei neolinguaggi, Plino Correa d'Olivera le chiama parole talismano, quei neolinguaggi impiegati dai media che diventano capaci di modificare da soli la mentalità dei ricettori in modo molto più efficace che ponderosi discorsi. Si tratta di un metodo di propaganda psicologica implicita, un po' più lenta, ma molto più potente di quella esplicita. In questo senso che, per analogia, si potrebbe dire che il messaggio della sinodalità è il processo sinodale stesso, con le sue dinamiche, con i suoi stili e soprattutto con il suo neolinguaggio, la sua neolingua. Noi abbiamo visto che in questi anni dell'attuale pontificato si sono moltiplicate nella Chiesa tutta una serie di parole nuove che appunto fanno questo processo di trasbordo ideologico inavvertito. Molta attenzione, cari amici, se noi entriamo in questa logica, usiamo queste parole talismano, anche senza che ce ne accorgiamo, ecco il carattere inavvertito del processo, subiamo una sorta di lavaggio di cervello o, se vogliamo, una conversione sinodale. Secondo Stefano Fontana, l'intenzione dei fautori della conversione sinodale della Chiesa potrebbe essere riassunta così, e cito «Lasciamo chiacchierare i sinodali in modo da assimilare il nuovo apparato concettuale e linguistico. Facciamo pure che producano documenti finali interlocutori purché non intralcino il lungo percorso. Ciò che conta è la nuova Chiesa della nuova mentalità che procede per atti». Chiudo citazione. È proprio quello che sta succedendo. Fontana afferma che la finalità del documento finale non era di produrre scelte di rottura, bensì di presentarsi come una nuova strada aperta al futuro. Una strada dove tutto si può discutere, tutto si può contestare, tutto si può proporre, e tutto si può negare perché niente è chiuso definitivamente nella sinodalità, divenuta nel frattempo caratteristica fondamentale della Chiesa. E noi dobbiamo fare molta attenzione, scusate se lo ripeto, perché se noi entriamo in questo flusso, senza che ce ne accorgiamo, in pochi anni avremo una nuova Chiesa. Con documenti o senza documenti. Infatti, una delle caratteristiche del trasbordo ideologico inavvertito è che il paziente non lo percepisce finché si ritrova in una posizione molto diversa da quella da dove era partito. Questa tesi è corroborata dalla gioia manifestata da padre James Martin, famoso fautore della causa LGBT, nonché delegato sinodale per nomina diretta di Papa Francesco. Probabilmente sia stato lui, padre Martin, l'architetto della grande riunione delle lobby di pressione LGBT che si è tenuta nella curia generalizia dei Gesuiti, un borgo santo e spirito, a fianco al Vaticano, e della quale hanno partecipato numerosissimi delegati sinodali e perfino il neoeletto cardinale di Hong Kong, anche lui un Gesuita. Padre Martin, lo sappiamo, è un ardente sostenitore del progressismo radicale e si era manifestato molto contrariato dalla decisione dei fautori vaticani del sinodo per aver escluso certi temi controversi prima dal dibattito nell'aula e poi anche dal documento finale. Tuttavia, egli, padre Martin, è uscito dal sinodo sorprendentemente felice, parlando addirittura di una sua conversione, convinto adesso che la strategia graduale degli organizzatori del sinodo sia quella giusta. Mentre l'anno scorso c'era diffidenza fra i delegati sinodali proprio per questioni come l'agenda LGBT, quest'anno padre Martin ha notato un clima disteso e positivo, è così che lui lo descrive, verso l'ambito LGBT. Dice che, anche se il tema LGBT non era in agenda, volentieri ne hanno parlato, come hanno anche parlato sull'ordenazione femenile. Padre Martin quasi quasi grida al miracolo, un miracolo ottenuto, dice lui, tramite il dialogo sinodale, dialogo sinodale, attenzione questa espressione, che ha costruito amicizie dove c'erano diffidenze, ha costruito dei ponti dove c'erano abissi. frutto del processo sinodale che ammorbidisce le resistenze. E lì, padre Martin, sembra sperare che il clima cordiale stabilito nell'assemblea sinodale tramite il dialogo si propagherà a tutta l'opinione pubblica cattolica, rendendola quindi molto più ricettiva ai cambiamenti che le propizia. La creazione di questo clima ecumenico e buonista dove attraverso il dialogo irenista si risolve tutto è l'essenza di ciò che Plino Correa di Oliveira chiamava il trasbordo ideologico inadvertito. Il sottotitolo del suo libro è proprio Dialogo. Del resto non bisogna disperare per certi ritardi. Alcuni cambiamenti possono sempre essere imposti dall'alto come è successo con la dichiarazione Fiducia Supplicans che per un atto calato dall'alto è autorizzato le benedizioni sacerdotali alle coppie omosessuali e alle coppie irregolari nonostante le resistenze che si erano verificate prima nell'aula del sinodo e anche in tutta la Chiesa. Ora dobbiamo attendere i rapporti dei gruppi specializzati di studio promessi per giugno del prossimo anno. Voi sapete che a fianco all'Assemblea Generale Papa Francesco ha nominato dieci gruppi specializzati di studio che dovranno presentare i loro rapporti entro giugno del prossimo anno. Noi sappiamo che in questi gruppi di studio ci sono alcuni non allineati al Catechismo della Chiesa Cattolica come è stato ampiamente documentato. Comunque dovremo aspettare i loro rapporti per poter dire qualcosa di più definitivo. Quei rapporti sottomessi al Papa per un suo pronunciamento, un suo eventuale pronunciamento decisorio fanno parte del sinodo come dichiarato dagli stessi organizzatori del sinodo. Quindi, cari amici, il sinodo non è finito perché niente è ancora definitivo. Tutto è in processo sinodale. Quindi, cari amici, non abbassiamo la guarda. Anzi. Poi, per completezza di informazione, devo dire che non è che i temi controversi siano stati totalmente esclusi dal documento finale. Ci sono passaggi del documento finale che propongono esplicitamente di lasciare aperta la porta alla ordinazione diaconale delle donne. Ci sono altri passaggi che propongono esplicitamente la cosiddetta decentralizzazione della Chiesa, cioè la creazione di consigli a livello parrocchiale, diocesano, regionale, eccetera, il che attuerebbe una riformulazione radicale dell'autorità della Chiesa. Lo stesso Francesco si è dispensato dallo scrivere, dal pubblicare una esortazione apostolica post-sinodale. E le invita esplicitamente a mettere in atto alcune delle raccomandazioni del documento finale. però non ci dice quali. Comunque, cari amici, stiamo a vedere. Non dimenticare di dare un like a questo video e a condividerlo con i vostri amici. Aiutatemi, vi prego, a far crescere questo canale affinché un maggior numero di persone possa essere puntualmente aggiornata su ciò che succede nella nostra Chiesa direttamente qui da Roma. Io vi do appuntamento la settimana prossima sempre qui nel canale Visto da Roma. Arrivederci.